Questa è un'immagine satellitare di un'isola ignota nel sud del Pacifico e rimasta nascosta fino ad ora. Molte civiltà ne parlano nelle loro leggende. L'isola dei Teschi, la terra dove Dio non ha finito la creazione. L'area è nota per il numero di navi e di aerei che sono spariti nel nulla. Ma in realtà riteniamo che ci sia dell'altro. I test nucleari Castle Bravo del 1954 non erano dei test. Cercavano di uccidere qualcosa. Io credo che da qualche parte esista un ecosistema che va al di là di ogni comprensione. E il posto in cui cercarlo è quest'isola. Un posto in cui mito e scienza si incontrano. I mostri esistono. Non mi dica. Lui si racconta che per migliaia di anni le persone hanno vissuto nella paura. È un periodo di terrore piuttosto lungo. E poi un giorno ha successo l'inimmaginabile. Alcune delle cose di cui avevano paura hanno iniziato a proteggerli da quelle che li mangiavano. Per loro è come un Dio. Ma sotto di noi vivono i tempi. E come si chiamano? Io li chiamo strisciateschi. Io di più siate fortunati che ci sia Kong altrimenti sareste già forti. lui non ha problemi alla fortale finché si tratta di quelli piccoli. Ma è meglio non segnare il più grosso. Per loro è come un Dio. Ma sotto di noi vivono i temi. Ma è meglio non segnare il più grosso. Ecco il più grosso. Lo saben. Ho giusto. Ho giusto. Lo giusto. Lui! 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 Grazie a tutti.